Vieni qua Eh? Ti senti? Raga Vai via beh Quag'è questo che c'ho? Vediamo se mi può far avviare ora Chi sei? Sei leggendo? Ah Eh? Sei leggendo? Ma leggendo 3 Sono calato ancora? Non l'ho trotta Vieni qua la mia sigaretta mi è rimasta Sì Eh? Non ti ho capito più Vieni qua Vieni qua Ti stavo mangiando Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Cosa vuoi? Fabio e Maurizio Vuoi fare male? Mmh Figa a fare i panini e poi quando proprio tipo là dentro ce la fanno e ci sono 6 domicili come ora mi metto anche a fare i domicili dentro e fuori prende 30 euro base qui mangi aspetta 30 euro base all'inizio perché all'inizio sono di più fuori che dentro ma lena poco dentro poi quando proviamo sono forte dentro gli danno 35 che le mangia praticamente mi danno il riassunto 25 a giornata tutta la giornata e 10 perché metto dentro all'inizio 5 perché sono gagnato se faccio i panini 20 panini in mezz'ora è assai già fatto ma non ha fatto quando ogni tanto mettono a fare guadino è un banino e ci metto a fare che ci vuole che ci vuole per fare in barri ma vai dopo a scuola facevo panini tutto in fronte a vendere in basso no dopo a scuola come fai come le faccio dal lavoro mi facevo le strade le cose lo sai che ora dobbiamo tornare a scuola quando ci sono laboratori vero ma io oggi maurizio ti posso dire che anflava c'è cominciano a due cose e formaggi queste cose io si sto molto io però net con l'inizio nato un barretto si dire che il bambino male se non era pronto c'è un quattro fisseria perciò clienti maurizio per le sette a 4 8 8 per tutto il mondo del mondo letto come lui mai almeno dopo sta c'era 15 anni con lo che ha preso classificato a questi direttamente vabbè si fa classificare quando la cittadina si sceglie una riusciosa ma che sa c'è allora però c'è una cosa ancora dieci secondi ma quello che ho visto maurizio proprio come va come va bene sopra so potrebbe proprio il benissimo solo ce la farebba scusami che sembrava sì ed è peggio però guarda scusami guarda guarda anche guarda 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 a guarda Buono Facciamo due under test Due under test Ma è vero dietro, va Venga, me ne sento uno qua Puttana mia Faccio, faccio PUS Venga, lo posso, che va a chiedere PUS è... Venga, è ferito PUS, è ferito PUS Spara WAPEN, venimi qua Venga, spara WAPEN Aspetta, venga Spara, spara Nuovo caricatore Liberate l'area di esplosione E' ferita, è ferita L'ultimo nemico rimasto Venga, l'ho sentito Venga, l'ho sentito Venga, no Vabbè, c'è... Ah, vabbè, l'ho sentito che era a sinistra Però non mi aspettavo che era dopo Venga, l'ho sentito Venga, l'ho sentito Venga Oh, guarda Fammi la piccola Mi asci A me la mi asci A me la mi asci Dopo che lui Qua Bello Non devo sto guardare Asciugola Con la schiena Bello 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 Asciugola la schiena No, vedo Asciugola la schiena Bello Ma con... Ma con... Ma con... Ma con... Ma con... Ma con... Se non... Vi fai mettere il principaletto account Che non possiamo andare alle schiena Non... Non ci credo Dovete usare il Drone per trovare una bomba Beh Beh... Oh... Perché non devo farli mettere i collo due principali Questa è la tua schiena Ci ho provato Ci ho provato Ci ho me la possato perchè.. da profilo qua non posso giocare cioè posso andare e non posso giocare perciò la domanda quando non si può mettere non si può mettere certo se può mettere a me con quelle dorazze vai alla vita per fare sto discorso vai alla vita per fare sto discorso vai alla vita 10 secondi all'inserimento vai alla vita 5 secondi all'inserimento 5 secondi all'inserimento che cos'è? raggiungete la boom e disinnescatela faccio punti per il nemico lontani dall'esplosione ah in general se non devo farlo fare io mi ammazzo non posso passare eh? ah non lo faccio voglio perchè c'è tua boom lontani dall'esplosione oh ma scoppolare magari la c4 mi hanno lanciato vai a buttare no di dietro telecamera posizionata no 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 lontani dall'esplosione lontani dall'esplosione sta planando bravo il mercatore attivo proteggetelo a tutti i modi bello la squadra ad attacco ha eliminato i dispensori ma è vecchia lui il primo avanti 4 kg a testa chi è? c'è chi tu? vabbè ah chi ve lo monto lontani dall'esplosione non so che che a la le la Il drone ha trovato una bomba. Attenzione, il drone è alleato, ha trovato una bomba. 10 secondi. Ancora 5 secondi. Raggiungete la bomba e disinnescatela. Occhi aperti per il nemico. Hanno perso due round, non avevamo l'assistante. Occhio all'esplosione! Alla larga! Oh, mi cagare! Ricarico! No, capì? Occhio, nego, a destra. Cio, ci state 10 anni, beh. Non ci sono, non ci sono. Non ci sono. Non ci sono. L'innescatore è attivo. Proteggete l'attività. Grazie. Eh. Non ne ho più! E' finito. Vincere. Allora in. è stato disabilitato, la missione è fallita ehi pittetto rieco, perché io questa potete comunque non lo so che cazzo è, ma hai joystick di Kevin è immanovrabile quando stiamo saluti in bares meno troppo peggio del mio ce l'ha mi troppo malissimo a giocare, non so perché la sensibilità è che ce l'ha 25 25 no, anzi la p***a va più alta della mia io la p***o 35 35 la porto madonna mia, sono l'unico che utilizza 65 65 e che me l'aveva 45 35 ho fatto come l'altro giardino scusa, sono l'unico che utilizza 65 65 difendete l'aria e proteggete le bombe avevo un'autosata a bambà a bambà a bambà a bambà a bambè 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 Il nemico ha trovato una bomba Prepararsi per il viaggio Oh che gioco è arrivata Si No Ricarico l'arma Non c'è l'argomento Non c'è un'argomento Non c'è un'argomento Non c'è un'argomento Si itano Si itano Non c'è un'argomento Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Posiziono la nitro Peppe la mano Eh si Un ne ha Dentro Cambio caricatore Cambio caricatore Spada va bene qua Ultimo attaccato Di una singhita E' la mia Della Mare Tania 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 non ho poi sparare robber da sparare quando ho colpi era tutto accalato per prova del primo e guadagna no ti siamo corretto ma ti sembra corretto un posto di malantelleria 3 kg 3 kg in baggio gli assist uguali e lui è primo spattere 100 12 punti quando stimo salute ciao willy questo qua la squadra d'attacco ha trovato una bomba preparare le difese telecamera attivata la squadra d'attacco ha trovato una bomba proteggetela siamo a 10 secondi cinque secondi nemico ha trovato una bomba prepararsi all'ingaggio ricarico stanno per operare una scansione a più del timer venga dentro sono la tua posizione è stata compromessa nitro piazzate nitro caricatore ultimo attaccante rimasto in vita ci voglio da nico sinistra a destra o a destra sopra 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 ti hanno scoperto ti hanno scoperto torna indietro oh minchia da qua sotto beh non ci credo vuolmi sentire infamora qualcuno deve rientrare no 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 mi ha rovinato il sogno bello ma è stato 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 bello arrivato prima di me io mi ammazzavo da lì a differenza tra me e lui non ci sono io io mi ammazzavo no io mi ammazzavo che si è toccato lì non ci ho messo niente perché non c'è il calir tanto c'è qua non c'è il cala evitato c'è qua maledissima che non gioco a Kevin oggi? 1 battita testa 2 round testa non ti picco ma la angosta non ti chiede la conoscere quindi 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 Stiamo in una famiglia Stiamo in una famiglia Stiamo in una famiglia What the fuck Come ti rupo What the fuck E' meditale Ehi Che spaccio Piggio una coda e ne fanno scarvi uno ora aspetta un secondo sono le collette di riso con la ciotata risolta aspetta un secondo riso mi tocca riso di come uno posteggiamo deve avermi visto riso la tante si riso riso è riso 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 è molto bello Ah mamma adesso abbiamo un giro così Questo fillededipasto ... ... ... ... ... Non lo puoi dire frazzi Ah vaia... Che è perdoe rui? Che è fai fai la sigaretta Allora io go Oh Kevin tu è francese? Apollo fa tutto il mondo Italiano Non me scopriate Amina Ma il mondo è un gioco Ah basta Ah basta C'è lui? C'è lui? C'è lui? Ah buonga! Ah buonga! Io l'ho mutato! Chi si buttano la testa! Ah ma Lungo stava trovando un ciclo! Inserimento tra 5 secondi Mi devo prendere il cane! Mi devo prendere il cane! Peppe! Mi ha fatto 5 secondi!